L'amministrazione comunale di Martinsicuro ha approvato una variante al piano demaniale marittimo prevedendo la realizzazione di due concessioni demaniali in quest'area dove, appunto vedete, ci sono delle dune. Quindi di fatto non è stato tenuto conto il piano demaniale regionale che invece ne prevede la tutela. Tra l'altro in queste zone nidifica anche il fratino che è tutelato dalla Convenzione di Bonna. MV, Lipu e SOA chiedono quindi all'amministrazione comunale di annullare l'atto consigliare perché non è stato tenuto conto della valutazione ambientale strategica.